bentornati oggi andiamo a vedere com'è possibile realizzare una texture simile alla ruggine partendo da zero con photoshop beh quasi da zero perché qui abbiamo la specifica di pantone per un colore ruggine ce ne sarà più di una sicuramente ma questa è la prima che ho trovato e tutto sommato non mi dispiace allora quello che faccio vado a selezionare il contagocce e seleziono questo colore colore di primo piano come colore di sfondo invece seleziono il nero a questo punto creo un livello nuovo in modo che mi tengo la copia di questo colore sotto non si sa mai nel livello nuovo vado a inserire un rendering con le nuvole che come vedete riporta il colore ruggine che ho scelto e il nero ora la prossima cosa che voglio fare è andare a convertire in oggetto avanzato in questo modo tutte le modifiche che andrò a fare saranno reversibili vado immediatamente ad aprire la galleria filtri il primo filtro che mi interessa è dentro nella cartella texture del filtro granulosità eccolo qui e vediamo che ha un default di intensità 40 e contrasto 50 diciamo che mi va abbastanza bene diminuisco solo un pochino il contrasto e gli do ok in questo momento il mio filtro viene applicato qui all'interno dei filtri avanzati ora la seconda cosa che andiamo a fare torniamo sui filtri e andiamo ad applicare maschera di contrasto qui le impostazioni sono abbastanza libere in quanto dipendono molto dal tipo di immagine su cui stiamo lavorando varia molto infatti a seconda del tipo di colore che abbiamo scelto nel caso aveste scelto un colore diverso dal mio potreste optare per una soluzione differente io mi attesto più o meno su 105 45 e 10 anzi magari 15 sì una cosa del genere va più che bene da notare che i filtri che stiamo andando ad aggiungere vengono aggiunti qui all'interno dei filtri avanzati quindi io posso spegnerli in qualunque momento e anche andare a modificarli facendo doppio clic ora la prossima cosa che voglio andare a fare torno su galleria filtri e voglio questa volta andare ad applicare un effetto sfumino i parametri che mi interessano sono all'incirca questi 225 dovrebbe andare benissimo e si è aggiunto anche questo ora la prossima cosa che mi interessa fare è andare ad aggiungere un po di disturbo ovviamente gaussiano monocromatico poco però diciamo intorno all'otto una cosa del genere andrà benissimo dopodiché torno in galleria filtri torno di nuovo in texture e vado ad aggiungere applica texture ora all'interno di applica texture quella che mi interessa è l'arenaria ingrandisco andiamo a vedere bene che cosa succede ridimensionamento gli voglio dare qualcosa di sì il massimo 200 rilievo a piacere secondo me 5 va benissimo e gli diamo ok e qui si stanno aggiungendo tutti i nostri filtri arrivati a questo punto diciamo che la nostra texture potrebbe anche dirsi conclusa e potremmo andare semplicemente a rifinirla aumentando un pochettino il contrasto con un livello di regolazione curve ma in realtà c'è un'altra cosa che possiamo fare possiamo infatti creare un nuovo livello in cima all'interno di questo livello andiamo a renderizzare delle nuvole immediatamente dopo andiamo a renderizzare delle nuvole in differenza questo passaggio lo ripeto un po di volte in modo da aumentare la randomizzazione di questo processo quando mi sembra che questo questo grosso frattale sia abbastanza complicato mi fermo a questo punto possiamo andare a giocare con i metodi di fusione per vedere se ce n'è qualcuno che serve al nostro scopo in particolare questi i metodi di fusione delle modalità per schiarire possono dare dei risultati molto interessanti in particolare colore scherma e scherma lineare soprattutto se usati non al 100% ma se usati con un riempimento inferiore al 100% qualcosa di questo tipo in questo modo abbiamo sostanzialmente arricchito la pattern della nostra ruggine dandogli un effetto secondo me più interessante qui in questo livello abbiamo conservati tutti i livelli che avevamo utilizzato e qui abbiamo il colore originale per cui questo documento oltre a essere una texture di ruggine finita è anche una mappa di come questo progetto è stato realizzato grazie a tutti